Ci siamo nel vero senso della parola. Da oggi si comincia a tutti gli effetti a essere dentro le Olimpiadi. Troppe discipline sono coinvolte con la qualificazione. Chi ci ascolta deve ricordarsi sempre a mente anche gli aspassionati di sport che in alcune discipline, soprattutto di squadra, qualificarsi è più complicato quasi che vincere una medaglia, soprattutto se sei un paese europeo con la concorrenza che c'è nel vecchio continente e molte danno punti pesanti sul ranking che è un'altra dinamica di valutazione per la qualificazione di Parigi. Per cui da oggi siamo già nel ponte che ci accompagna verso Parigi. Migliorare Minsk, migliorare 41 medaglie. Abbiamo portato veramente gli atleti e gli atleti migliori, ma lo hanno fatto anche gli altri, lo sappiamo. Per cui piedi per terra salvo chi deve saltare.